Musica Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi video workout upper body Mi trovo in questo castellino che l'hanno costruito al parco e sono sicura che nel parco vicino a casa vostra troverete qualcosa di simile Adoro allenarmi qui, infatti è una settimana che aspetto un raggio di sole e un pochino di caldino perché è l'unico modo in cui riesco a fare qualcosa simile a trazioni cose che sul tappeto a casa non riesco a fare ed è un pochino quello che soffro per i miei allenamenti upper body Quindi inizio subito con un po' di riscaldamento facendo dei lavori di scapole quindi mi appendo e da qui semplicemente tiro su e giù lavorando di scapole Ok, quindi questa è una parte del riscaldamento ho qui il mio sacchettino per gli elastici e un altro esercizio di riscaldamento dove vuoi che mi metta? Qui? Questa assomiglia tanto alla borsa di Ermione dove dentro c'era di tutto di più Allora, qui leggo il mio elastico e faccio i lavori per la spalla di riscaldamento Quindi da qui, apro mi raccomando il gomito attaccato apro, non è questo rimane bene e sto lavorando qua per riscaldare la spalla Per me è molto importante perché soffro di spalle troppo morbidi Wow, pazzesca sta mascherina insieme ai pantaloni E poi dall'altra parte, quindi parto da qua, esterno e chiudo Ok E poi ultimo esercizio di riscaldamento Quello che fa Sibio quando attirò fuori i panni dalla lavatrice non fargli venire le pieghe tira, tira Quindi in questi esercizi di riscaldamento abbiamo riscaldato dorso, spalle e petto e adesso siamo pronti per il workout Il workout si compone così Lavoro in super serie, quindi prima super serie sono 5 trazioni con elastico, che bello posso trazionare e 5 piegamenti sulle braccia Mi arrampico No vai 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 Questa è la prima super serie, ripeto questa super serie 5 e 5, almeno tre volte facendo un minuto di pausa fra una super serie e un'altra. Seconda super serie. Ok, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 5. Ancora, continuo. Ripeto questa super serie 5 e 10 per tre volte con un minuto di pausa fra una super serie e l'altra. Ultima super serie bicipiti e tricipiti, quindi bicipiti, metto così e non ci sto, sono troppo grossi. Bicipiti, quindi prendo l'elastico. Bicipiti, quindi prendo l'elastico, comunque top. dico, abbono, l'elastico, 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 l'elastico e l'elastico, Ok? 15 bicep curl e adesso tricep dips. e quindi metto così quindi come al solito super serie ripetuta tre volte facendo un minuto di pausa fra una super serie e l'altra questo è il mio workout completo dura circa 45 minuti se fate i tempi di recupero giusti e le pause giuste spero che questo video vi sia piaciuto che vi abbia dato ispirazione per un workout completo in un castello del genere con qualche elastico come attrezzo basta il nostro corpo per fare tutto ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!